e ciao a tutti ragazzi e benvenuti benvenuti carissimi videotubisti sono sempre io Mujahidin l'ultimo di talebani napoletani sono praticamente qui su guild wars 2 e insieme ai miei amici insomma abbiamo costituito quello che è una gilda una gilda di red fangs e praticamente sono contentissimo perché questo gioco si sta rilevando veramente veramente divertente e quindi voglio stare qui un attimino a presentarvi tutti i componenti che probabilmente conoscete il nostro amico russo proveniente da apb viacex eccolo vieni vieni pure viacex sta sparando un po' di fricce come vedete praticamente eccolo qui praticamente adesso si è trasformata in una topuna va bene eccolo qui viacex saluta viacex saluta i nostri amici ciao ragazzi benissimo benissimo adesso spostati pure diamo spazio agli altri adesso voglio presentarvi che ci ha seguiti su questo gioco infatti c'è un maiale guardate là c'è quel maiale vabbè non dico niente non dico niente ragazzi vabbè e praticamente adesso volevo presentarvi quello che è il nostro simpaticissimo ci segue sempre ovunque praticamente e merromello vieni merro vieni pure ed eccolo qui ragazzi ed eccolo qui un guerriero incredibile si è creato un guerriero fantastico veramente è ok ragazzi eccolo qui c'è qualcosa da dire saluta a tutti quanti ciao a tutti ragazzi I'm the best in the world lo sapevo lo sapevo che avrebbe detto così va bene e adesso ragazzi vi presento una nuova persona il re matto si è rilevato una fonte veramente inesauribile di innovazione nella nostra gilla viene pure avanti ed eccolo qui un mesmer fantastico eh micchia sei un attimo trasformato in un lupo mannaro c'hai qualcosa da dire ciao a tutti ottimo ottimo benvenuto benvenuto nei red fangs chi è quest'altra bestia? è viacex che è diventato un tronco toglietevi dalle scatole che devo presentare gli altri e ora signore e signori ecco ste grandissimo ste un grande guerriero combattente il nostro tancone ciao a tutti ragazzi e come vedete già siamo pronti tutti quanti e incazzatissimi adesso ci accingiamo praticamente a fare il nostro primo dungeon e insomma siamo veramente contenti siamo veramente contenti di essere qui su Guild Wars 2 con questo gioco innovativo e molto divertente e guardate qui io sono praticamente un ingegnere si chiama Joe Zipper il mio personaggio e posso fare tantissime cose come prendere qualche piccolo robot e fracassare le osse agli altri insomma quindi è veramente divertente ragazzi questo gioco vi invito insomma a venire a giocare con noi perché i red fangs insomma sono sempre aperti a tutti venite 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 che vi aspettiamo calorosi calorosi più che mai insomma ed eccoci qua quindi va bene con questo è tutto non so se dire Joe Zipper o dire Mujahideen l'ultimo in tale banale napoletane vi saluta con tutto il clan dei red fangs cioè gli artigli rossi un salutone a presto ciao 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 ciao